La prima finale della giornata di questa seconda giornata per Città di Cantù, organizzata dalla Patinatore Moppi di Cantù, dal gruppo Patinatore Moppi di Cantù, viviamo insieme questa prima finale sprint breve ma intensa, 300 metri da coprire a tutta velocità per poter salire sul podio, siamo già in curva, sfricciare tra non molto per la sprint e conclusivo per la volata finale, siamo agli ultimi, è vero che si conclude anche questa finale